Ho lavorato tanti anni con questi fondi, quindi da un lato c'è una grandissima professionalità e la capacità di attrarre competenze e un network che è utile ovviamente nel momento che devi sviluppare un brand come può essere il Genoa, che di per sé ha un potenziale enorme, deve sviluppare un'ottima gestione della società da un punto di vista economico e non solo. Poi, messo dentro un ambiente come quello calcistico con tutte le sue particolarità, soprattutto in Italia, io spero che nel caso si avvalgano comunque anche una competenza un po' calata nel territorio, perché altrimenti puntare solo al ritorno all'investimento rischia di creare più danni di quelli che magari abbiamo visto negli ultimi anni.